Ciao carissimo, ciao carissima, benvenuto in un nuovo video preparato con amore per te. Nel video di oggi imparerai a rispondere come un vero italiano partendo dalle basi. Lo so, ti potrà sembrare troppo semplice dire partendo dalle basi, ma è importante avere delle fondamenta forti in una lingua, no? Quindi oggi capiamo come renderti ancora più italiano nelle risposte alla domandina come stai e vedrai che magari pensi di sapere già tutto ma non è così, ok? Quindi preparati che iniziamo. Eccoci qua, prima di iniziare ti voglio avvisare anche che avrai l'opportunità di fare un mini quiz alla fine di questo video, un mini quiz di 10 domande che ti darà l'opportunità di capire quanto hai assimilato del video e dell'argomento di oggi. Ti aiuterà anche a notare le forme corrette che magari prima sbagliavi. Vediamo insieme come puoi chiedere come stai come un vero italiano. L'italiano è una lingua molto versatile, ovvero flessibile. Questo significa che ci sono molti modi per chiedere un semplice come stai. Infatti domande diverse porteranno sicuramente a risposte diverse. Dovete sapere che quando due italiani si incontrano, non sempre si chiedono il semplice come stai e soprattutto non sempre poi rispondono il classico bene tu, bene. Ma ci sono tantissime varianti. Facciamo un primo esempio. Queste alternative puoi usarle con amici, familiari o persone che conosci bene perché si tratta di un approccio informale, quindi usato con persone con cui abbiamo un certo tipo di confidenza. Rimanendo nelle alternative informali puoi anche chiedere va tutto bene? Gli italiani infatti quando parlano eliminano alcune parole per rendere il tutto più scorrevole, più rapido, ovvero anche più fluido mentre parlano. E di solito le persone risponderanno a questa domanda con un semplice sì oppure con un semplice no oppure ripetendo la domanda, quindi se chiedi tutto bene la persona può risponderti tutto bene. Siamo persone semplici noi italiani. Tutto bene? Sì, tutto bene. Oppure tutto bene? No, non va tutto bene. Oppure se vuoi essere ironico con un po' di sfondo di simpatia, una cosa che io a volte faccio, se qualcuno ti chiede tutto bene tu puoi rispondere no, tutto male. Però appunto per scherzare con ironia. A volte lo sentirai dire, ok? Passiamo adesso ad un altro modo di chiedere come stai. Va meglio? Sta andando meglio? Puoi usare questa espressione quando sai che qualcuno era ammalato oppure aveva un problema e vuoi sapere come va la situazione adesso, se la persona sta meglio. Per qualcuno che invece non conosciamo e magari quindi vogliamo usare una espressione un po' più formale, possiamo usare il classico come sta, come si sente, quindi usando la terza persona singolare, dando quindi del lei. Per questo troverai un link in descrizione su un video che abbiamo già fatto su questo argomento che è l'italiano formale vs informale. Ora che sappiamo come fare le domande, diamo un'occhiata al modo in cui possiamo rispondere per non essere colto di sorpresa. Innanzitutto faremo una suddivisione tra lo stare bene, quindi risposta per stare bene, e la risposta per stare male. Se stai bene e ti senti sereno, oltre al banale bene, puoi dire Se invece ti senti molto bene, quindi estremamente bene, puoi rispondere Vediamo adesso un mini-dialogo esempio. Ciao Isa, quanto tempo? Come va la vita? Alla grande, ho finalmente trovato il lavoro dei miei sogni in Italia. Wow, che bella cosa! Avrai sicuramente seguito tutte le lezioni di italiano per la vita. Esatto, non me ne sono persa neanche una. Ora mettiamo il caso che tu sia stato male, quindi vediamo delle risposte per dire in modo informale che tu sei stato male. Quindi immagina che ti sto chiedendo Come stai? La risposta potrebbe essere Malissimo Uno schifo Oppure Da schifo Sto da schifo Una tragedia Un incubo Vediamo adesso un mini-dialogo esempio di nuovo. Ciao Albi, come vanno le cose? Ciao Isa, guarda Una tragedia Perché? Ho perso i miei documenti questa mattina e non li trovo più. Nei casi invece un po' più formali, uno che non sta bene può dire qualcosa di questo tipo. Non molto bene Non sto molto bene Oppure Ho avuto giorni migliori A tutti però capita di sentirsi né bene né male E se vi trovate in Italia e vi sentite in questo modo potete rispondere nei seguenti modi. Insomma Così così Niente male Non c'è male Me la cavo Non mi lamento Oppure Non mi posso lamentare O ancora Si va avanti Vediamo ancora una volta un mini-dialogo esempio Ciao Isa, va tutto bene? Insomma, non mi lamento Sono appena tornato da una gita in montagna e sono molto stanca E tu? Si va avanti Non c'è male Ecco qua ragazzi le domande, le risposte tipiche al come stai Per sembrare veramente dei veri italiani Puoi usare questo video per velocizzare il tuo apprendimento dell'italiano colloquiale Quindi capire questi modi che noi abbiamo per, diciamo, rispondere rapidamente al come stai E quindi anche il modo in cui noi informalmente rispondiamo Per quando stiamo bene Per quando stiamo male E per quando stiamo né bene né male Ok? Il mio consiglio è quello di ascoltare il video tante volte senza voler memorizzare Perché ovviamente non funzionerebbe Quindi la cosa migliore è veramente ascoltare questi materiali nei tuoi tempi morti Mentre anche fai altre cose E soprattutto adesso ti ricordo che qui sotto, qui sopra In base a dove sei Trovi il quiz gratuito che abbiamo creato per te Per assimilare ancora di più questi concetti, queste risposte Quindi avrai appunto il materiale necessario per ripassare le risposte a come stai E capire sempre meglio come usarle, ok? Se ti è piaciuto il video puoi lasciare un mi piace, un commento E soprattutto condividerlo con chi come te sta imparando l'italiano Io ti mando un grande abbraccio Ti ringrazio per essere stato qui con me oggi E ci vediamo per il prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti